E' un matematico italiano all'Università di Kingston e dopo molti anni di disiste abbiamo elaborato io con i miei colleghi un'equazione con la quale è possibile descrivere dei fenomeni evolutivi del nostro quale ci sarà questa fine del mondo. E' un'equazione basata su metodi di analisi numerica abbiamo trovato dei risultati in base ai quali secondo noi potrebbe avvenire questa fine. Se noi costituiamo questi numeri che abbiamo trovato all'interno dell'equazione possiamo trovare sostanze che ci indicano che il mondo finirà in questa data. L'obiettivo del nascente progetto NASMA è quello di cambiare uno di questi numeri che abbiamo visto qua perché in questo modo possiamo spiegare di prolungare l'esistenza del nostro mondo. Purtroppo invece in base a questi barcoli, se non ti resta a fare questo, abbiamo visto che la fine del mondo ha già precisamente nel giorno del 2011. Immaginali Uicali Grazie a tutti.